Devo provare questa roba? Si, la cioccolata col burro di noccioline Su Spans Ho preso un kilo Wow Com'è? Una droga Vaglio a morire Mori Vai ora Uno, due, tre, via Molto poco All'affa Non hai più domuto la parola Bacol 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 E la signa cannella A filadelfia A filadelfia sto mangiando Buono Mi piace questo bacon Bacol Buono Buono questo Non capisco il gusto Invece a Federico gli abbiamo dato le vostre pazzate con la pancetta Per stare leggeri Federico assaggia il bacon Non gli piace un cazzo Il Philadelphia è molto buono Con la sedia che cicola Ma posso rimandare il bagel? Il bagel è una cosa di una secchezza E' un po' di una secchezza Grazie E' un po' di una secchezza Con la mostarda Ci piace? L'ignorante come... Come la merda dei carabinieri Sto mangiando un cheesstec La Filadelfia, il piatto più importante e comune di Filadelfia, buonissimo, adesso lo proviamo. Wow! È buono! È buono! Di che sa? Sa di carne che non si capisce bene la sua natura diciamo, però molto buona, formaggio questo fungo buonissimo, cipolla, e let's sit, devo provare, invece ci apriamo le patate con la mostarda! Fantastico! La war con la mostarda, è il bel mantro! No, no lo so! Grazie per la visione!